Ma se sta a qualsare è con te? Angelina non succede, ma se succede... Senti, che emozione hai ritrovare Lorella stasera? Mi fa moltissimo piacere, lei è una persona stupenda, è sempre impeccabile, non vedo l'ora di vederla sul palco. Ma Maria ha sentito la canzone e gliel'hai fatta ascoltare? La noia? Sì, certo, certo, assolutamente. E che mi ti ha detto? Eh, le piace, le piace molto. Quando mamma e papà duettarono, mamma raccontò, ai sei anni, raccontò, ma quella voleva venire alle prove, mi ha chiesto che canzone cantava, te la ricordi questa storia? Mi ricordo che lei l'ha detto, ma non mi ricordo il momento in cui l'ho fatto. Ma stavi qui o stavi a casa? Ero giù al Lago Negro, sì, sì. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Vediamo con il paletto, ragazzi. Sciagliamo un po', dai. Sciagliamo un po', dai.